buonasera ben arrivati al convento di l'onato è vicino a me una che coniglietta altro che merlin borrò ma altro che claudia e la madonna altro che claudia shiver alla faccia loro no ma si beccate di sti spicci ma allora ciao carissima come ti chiami luana luana ciao luana allora e di dove sei luana di desenzano di desenzano cosa festeggi questa sera per noi caminetta al dio annubilato e quando ti sposi 21 giugno ma anche pochissimo e dimmi chi è fortunato cristian cristian vuoi dire qualcosa a loro e nostra camera mangiare già puntato su di te quindi quindi no mi dispiace edizione imitata non si può no no fai una brutta pubblicità allora non va bene anzi devi dire sì come più numerosi vi aspettiamo di più tutti perché se no che mondo sarebbe senza donne senza playboy non sarebbe mondo quindi ho ragione io vero senti allora quindi sei qua in compagnia delle amiche per divertirti sì tutte le mie amiche festeggiamo l'ultima sera e dai e stasera cariche perché se non siete pazzi noi vi vogliamo qua è subito in compagnia di alexa e la nostra coniglietta luana ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti